i bike for enduro qui condor mi ricevete i bike for enduro qui condor non possiamo volare è di soccorso e sospeso l'operazione maxi pagnotta è ufficialmente rinviata tutta questa neve non l'ho mai visto neanche scopare il condor torna al nido me ne vado a casa passo e chiudo è già bella non è ma poi c'è il bosco si chiude è evidente che sarà un giro alternativo e là lo vedo qui c'è la ragazza o tanto la vai questo è un po' di ritorno un'ombra all'ombra oh Grazie. 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 Attenzione, siamo sotto tiro alla grande. No, no, no. Amico.